Lo stazione è stato riqualificato, il lungomare è risistemato. Si sono spesi soldi per dare un nuovo lucchio alla località balneare. Si è creata anche una zona a traffico limitato che puntualmente nessuno rispetta. Ci si affaccia per godere il paesaggio e to' una discarica di bottiglie e bicchieri. Sciacca, dove il turismo è cultura. Un'estate al mare, voglia di remare, fare il bagno a largo per vedere da oltre.